Checo Salone! Cassano! Sì, sopra, mi hai cambiato la vita. Da quando a te sono una persona più serena, più felice, più colto, in una parola più migliorato, ecco. Adesso ti faccio una confessione, una cosa difficile da dire a un figlio. Papà non è laureato. Te l'ho detto adesso, non voglio che magari poi lo vieni a sapere dei giornali. Papà ha fatto tanti errori nella vita sua. Christopher, con le donne, ti prego, non fare le cose che ho fatto io. Io ne ho avute tantissime, troppe. Mi ricordo quando stavo a Madrid, quante spagnole. Poi lo stesso, quando sono tornato in Italia, quante spagnole. Un giorno capirà il bambino che cosa sto dicendo. Io non vi abbandonerò mai, mai, Christopher, mai. Per nessuna cosa al mondo, mai. Starò sempre con voi due. Chris. Pronto? Pronto, Antonio. Sono Terry. Ti ricordi di me? Terry di Molfetta, tutto culo e niente tetta? Sì, sono io, Tarnut. Come stai? Eh, sto bene. Sono guarito, tutto a posto adesso. Dimmi, dimmi. No, niente, prima di tutto ti volevo fare gli auguri. Grazie. Poi mi sono detta, siccome sto dalle tue parti, mo' lo chiamo. Vediamo, si vuole venire a fare una birra, sai, come i vecchi tempi. No, Terry, ascolta, guarda, adesso io sono un padre, sono un marito fedele. Quindi te lo dico teneramente, fatelo buttare da qua che da un altro, perché, vedi... Sei sempre in certo romantico. Lo so, però... Senti, e non è che c'è un amico a Milano. Fammi pensare un attimo. Lo tengo, Terry, aspetti un attimo in linea. Adesso papà ce la manda a una persona che adesso in questo momento sta anche un poco triste. Però gli piacciono questo tipo di situazione. Eccolo qua. Pronto? Pronto, Antonio Cassano, carissimo. Ui! Come stai, trombolo? Tutto a posto? Ascolta, mi chiami perché ti hanno messo fuori dalla rosa della squadra? No, perché devi entrare tu nella rosa di una ragazza stasera. Ascolta, e come mai pensi che la cosa possa interessarmi? Eh? No, dico, come mai pensi che la cosa possa suscitare in me interesse? Eh? Ma è una battuta, Antonio. Non l'ho capita, Presidente. Insomma, che cosa gli devo dire? Vuoi fare stasera? Ma fare cosa? I funghi. Cosa c'entrano i funghi? È una battuta, mica cretino come quella che fai tu, una battuta intelligente. Dai, capisce solo le battute sceme questo qua. Senti, che devo fare? Te la deve mandare? Ma certo, mandamela. Ascolta, ma quanti anni ha? Che ne so, 23, 24. Va bene, dai. Gallina vecchia fa buon brodo. Ascolta, Antonio, una cortesia. Quando mi fai questo tipo di telefonate, cerca di usare degli eufemisi. Eh? Dico, quando mi chiami per dirmi che mi devi mandare una figa, usa una forma diversa. Allora sta arrivando Terry, una ragazza con la figa quadrata. Io vi lascio con questo brano che avrei veramente evitato di fare perché è una cosa privata, ma lo tengo per me. Ci sono delle canzoni che non bisognerebbe cantare in pubblico. In Brasile. Ciao. Quanto? Deciaro. Deciaro? Così poco? Deciaro. Scusa, non è arrivata l'amplacione a Rio de Janeiro? Tristata a me. A Capurso, mio paese, la mignota, manco mi saluta perché è cearo. Non avevo notato un piccolo difetto fisico. Udenti spurgenti. Sono le dodici di notte. Un saluto agli amici che si seguono in streaming su YouPorn. E ho incontrato una ragazza di Panima che faceva a basso costo. Faceva pure un scontrino pescone. Mi dice, dammi la partita IVA. Gli dice, dammi un po' di pasta brasilia. Scusami, nina, posso farti una domanda senza sembrarti un po' maligno? Matteo, la sorella è il Ronaldinho. Grazie. Io non vengo qui però a fare politica, eh. Però aspetta, ho visto che non sono qui. No, no, no. A fare politica però la stai facendo. Te lo voglio chiedere, tu sei di centro-destra o centro-sinistra? Centro di dietro. Cioè, mi metto dietro e vedo dove butta. No, butta a destra il suono. Vai, vai, vai. Perché è una serata molto divertente. La taranta di centro-destra dura un minuto e mezzo. È bello, vai con la bassa. La taranta di centro-destra. Cioè, è solo corta. È solo corta. La taranta di centro-destra. Dove sta scritto che la musica popolare è solo di sinistra? Sentite quanto è bella, uscite dalla finestra. Arriva la tarantella del centro-destra. E viva Berlusconi e lo capitalismo, le società per azioni. E viva lo consumismo. E viva pure Maroni e lo federalismo. E viva la Carpagna. E viva la Fregna. La taranta di centro-destra. Grazie. Che colossalone e la pizzicata di destra. Cioè, una canzone in cui tu parli del tuo aspetto, diciamo, della tua femminilità. Io la sto tentando di trovare da tanti anni un po' di omosessualità. In me purtroppo non la trovo. Ma perché purtroppo, cioè... No, no, purtroppo. Va bene tutto, però dico purtroppo mi sembra esagerato. No, ragazzi, diciamoci le cose come stanno. Oggi se non già hai una bisessualità, una richionezza in terra, non vai a male. Oggi bisogna essere tale per... Vi faccio ascoltare questa... Sì, però per piacere. Trova dei sinonimi, non essere offensivo, non utilizzare termini che possono in qualche modo urtare la sensibilità. Ma quando mai ti ho dato modo di pensare tutto a ciò? No, mai. Ma come si sa lì in mente? Farò questa canzone... Beh, tenderemo di usare dei sinonimi. Mi fido. Grazie. Quando tuo figlio dice O, è tutto a posto. Quando tuo figlio dice O, è un figlio giusto. Ma se tuo figlio dice A, o peggio ancora dice A. Stiamo attenzione, ma non è detto che è un... Sinonimo. Stiamo attenzione, ma non è detto che è un cicchipaone. Ma cosa applaudite? Aspetta, non è finita la canzone. Cosa? Perché se uno dice O, magari è tenerezza, o dolcezza, e non è detto che sarà. Non lo dire. Un caso di frocezza, ma non è scapposato. Ma se crescendo dice A. Voglio il bracciale, voglio la collana. In questo caso mi sa, mi sa, oltre che dolce, è un po' gabbana. Ma dico a te che ti secca l'idea di un figlio come un platinecca. Se devo fare un figlio, io lo voglio, ma cioglio. E' meglio che ti dice A. E fa i programmi con la De Filippi, piuttosto che ti dice O. E resta a casa a farti le bimbi. Se a me mio figlio dice A. Ci dico bravo a papà. Mi chiacchia e goduria, se mi diventi una luxuria. E allora impara a dire A. E fatti bionda, e fatti bruna, e fatti lele. E vatti ora! Grazie! Che giovane! Io mi chiamo Chiesa. Ma è giusto che ve ne parli lui. Checco, entra, raccontati di questo incontro. Sì, grande Eros. Con Eros qua giovanissimo, sempre bello. È forte, è forte, è forte. Intelligente. Come vi siete conosciuti? Guarda, la collaborazione è nata circa due mesi fa. È stata una cosa per me incredibile. Mi ricordo, era un pomeriggio, faceva anche caldo, ricevo questa telefonata. Ero, ciao, sono andato a me stasci. Non parla così. Senti, c'è che parola. Senti, io ho sentito solo. Senti, secondo me tutti i miei amici, sono andato a me. Perché non possiamo... Non ci capivo niente. Se vogliamo iniziare una collaborazione, devo venire a casa tua. Insomma, mi invito a casa. Sì, mi vieni, mi aspargo a 77. Cassi, non vi dico per trovare la casa. Fino a che la trovo, col cuore proprio palpitante, citofono. Salgo a casa di Eros e trovo quest'uomo in fondo, che veramente mi ha sorpreso, perché era triste, cupo e solo attacco un monologo di due ore. Eh sì, però... Mi ten, mi ten. Cioè, da quando mi sono attaccato con mi ten... Non l'ha presa bene la separazione, lui è rimasto... Dopo due ore di mi ten è nata questa canzone che ho scritto per lui, che si intitola L'ultimo quarto. L'ultimo quarto, bella, romantica. L'ultimo quarto di luna, bella, mi piace. C'è una particina che la possiamo ripetere insieme. Un attimo solo... Allora dovete ripetere a me una particina che ora capiterete qual è. Amo te, solo te, perché con te... Voglio te, solo te, perché io e te... Voi... Bravissimi! Ma capiccono subito? Vieni a stare qui con me, vieni a fare... Che capo... Perché quando non ci sei, Non c'è quella cosa che piace tanto a me, Vieni un po' così... Inizia per... Finisce per... Finisce per... Ed è... Intieme! A tempo! Ed è... Grande Eros! Eros Ramazzotti! Un grande cantante in Italia. Chi è il più grande cantante italiano? Quello che ci riesce a far vibrare le corde dell'anima. È Vasco Rossi il più grande di tutti, perché lui... Veramente che... È forte. Qual è la sua grandezza? Arrivare al pubblico, farci emozionare, senza usare tante parole spesso inutili. Bastano poche parole, quelle giuste, quelle che fanno poesia. Io ho scritto con umiltà una canzone per Vasco Rossi, nella speranza che un giorno la sente. E la canta. E... 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 Insieme, insieme. E... Pada, pada, pada. Arriva il concetto, arriva. Che te... Sei te... E... 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 Che voi... Siete voi... E mica mica noi... E... 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 Mi piaci tu, mi piaci tu, mi piaci tu, mi piaci tu, mi piaci tu... Come me lo te lo... Come te lo me... Come... Come... Come me lo... E... Come... Devo me... Insomma, me la devi dare. Facciamo l'ultima, facciamo l'ultima, facciamo l'ultima, facciamo l'ultima, eh, insieme, insieme, che ti bevi la Coca-Cola, mentre fai la barba, eh, vabbè, 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 sembra facile a te. Ma il senso, il senso dov'è? Prova a dirmelo te, te che sei là. Sìììì! 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 Sìììì!